L'attesa è finita. O meglio, è appena cominciata. Già, perché abbiamo la conferma che la beta per l'attesissimo Path of Exile 2 inizierà il 7 giugno 2024. E intanto, in occasione dell'Exile Con, che si è appena conclusa in Nuova Zelanda, noi abbiamo avuto accesso a un dietro le quinte sullo sviluppo di questo attesissimo titolo, che ci ha anche permesso di dare un'occhiata a qualche dettaglio. Seguiteci che vi raccontiamo tutto. Sono passati ormai quasi quattro anni dall'annuncio di Path of Exile 2 e il progetto è cambiato radicalmente. Originariamente il gioco doveva infatti limitarsi a essere un'espansione del primo capitolo, tuttavia nel corso del suo sviluppo il progetto ha continuato a crescere, trasformandosi così in un nuovo gioco, con una nuova storia principale, un nuovo endgame, nuovi nemici e un sistema di stagioni tutto suo. Senza contare inoltre abilità inedite, meccaniche stravolte e soprattutto tante nuove classi completamente ridisegnate. Ma per gli sviluppatori sarà anche l'occasione di rivisitare con sostanziali miglioramenti i tanti contenuti del primo capitolo, che verranno aggiunti al gioco in modo permanente. I due episodi inoltre presenteranno un sistema condiviso per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi contenuti, così da consentire di portare avanti l'esperienza su entrambi i titoli. Gli sviluppatori hanno ammesso anche che c'è stato un momento in cui si sono resi conto che il loro piano di sostituire il primo Path of Exile con il sequel avrebbe finito per distruggere senza motivo un gioco che la gente ama, così la decisione è stata quindi quella di separare i due prodotti, dotando ciascuno di caratteristiche proprie. Quella sviluppata da Grinding Gear Games però resterà una piattaforma condivisa, e questo permetterà anche la migrazione da un gioco all'altro delle microtransazioni effettuate dai fan. Il lungo video di gameplay che ci è stato mostrato aveva come protagoniste due nuove classi, il monaco e l'incantatrice. Il livello che gli sviluppatori hanno affrontato era invece il terzo atto della campagna, ambientato nelle profondità della giungla tra le rovine della civiltà Val che crollò migliaia di anni prima degli eventi in cui ci troveremo invischiati. Ah, e già che ci siamo, in termini narrativi la trama sarà ambientata 25 anni dopo i fatti del predecessore. Sul fronte dei personaggi, ogni combinazione di attributi avrà due classi ad essa associate. Forza e intelletto coinvolgono il Templare e il Druido, Destrezza e Forza sono invece i tratti distintivi del Ranger e della Cacciatrice, mentre l'accoppiata Destrezza e Intelletto rimandano all'Ombra e al Monaco. Le ricompense delle missioni saranno specifiche per ogni classe, ma tutto sarà assolutamente mescolabile e personalizzabile. La differenza fondamentale tra una classe e l'altra e tra due personaggi all'interno della stessa sarà però rappresentata dalle classi di ascendenza. Ogni classe possiede infatti tre ascendenze, che ci consentiranno di specializzare ulteriormente il nostro personaggio in un modo a cui solo quella determinata classe ha accesso. Ma c'è un ulteriore cambiamento fondamentale che abbiamo notato nella gestione del combattimento corpo a corpo. Ogni cosa, dagli attacchi alle schivate passando per i nemici, ora è più mobile, con il Monaco che ad esempio fa di questa nuova caratteristica la sua cifra identitaria. Un'altra grande novità è rappresentata invece dall'aggiunta di un piccolissimo aiuto alla mira al momento di lanciare le abilità più forti e soddisfacenti. Guardando il gameplay infatti abbiamo notato degli indicatori blu sopra i nemici che non sono altro che il segnale che quel nemico in particolare può essere finito con un'abilità speciale. Usare questo potere sull'avversario lo abbatterà, conferendo così al nostro personaggio una carica di potere. Quella del Monaco è la classe che ha fatto da assoluta protagonista del gameplay mostrato dagli sviluppatori, e le sue abilità sono state un'ottima dimostrazione della filosofia con cui questo sequel è stato progettato. Oltre al sistema delle cariche di potere ottenibili con le mosse speciali, infatti, un'ulteriore abilità del Monaco è Falling Thunder, ovvero un tuono che cade dal cielo e infligge un danno ad area. E inoltre, per ottenere tante cariche di potere in fretta, questa figura può contare sul Whirling Assault, un attacco che non fa troppi danni per colpo ma permette al personaggio di coprire molto terreno, dando così al giocatore parecchio controllo direzionale. E come se non bastasse, questa nuova classe può contare inoltre su attacchi a base di vento per allontanare i nemici e di ghiaccio per congelare anche i boss. Niente paura, però, perché rispetto al passato i cambiamenti di stato come il congelamento sono stati completamente rielaborati, per poter essere applicati ai boss senza trasformare il giocatore in una divinità. Anche la schivata sarà una nuova importantissima componente dell'esperienza, e si tratta di una mossa che non ha tempo di recupero, ma durante la quale non saremo invulnerabili. Non solo, la schivata ci consentirà anche di annullare quasi tutte le abilità in qualsiasi momento, quindi non ci saranno lunghe animazioni o altri ostacoli tra noi e una capriola che potrà salvarci la pelle. Il Monaco infine ha a disposizione anche lo Shattering Palm, ovvero un colpo che piazza una piccola bomba di ghiaccio sul bersaglio, e il Flicker Strike, abilità che consuma cariche di potere direttamente dal primo Path of Exile, utilissima per finire un boss quando ne avremo accumulate abbastanza. L'Incantatrice è il nuovo personaggio incentrato sull'intelletto e presenta uno stile basato sulla distruzione elementale. Alcune delle sue abilità risulteranno molto familiari ai veterani, ma qui sono state riviste e riadattate alle identità di classe. Spark, ad esempio, è una catena di fulmini che rimbalza sulle pareti ed è perfetta per corridoi stretti. Ark, invece, è un proiettile singolo e serve a infliggere molti danni a un nemico specifico. Mentre Ice Nova è un attacco potente da usare come ultima risorsa se gli avversari si avvicinano troppo. Poiché l'Incantatrice non è un personaggio da mischia, gli sviluppatori hanno incluso nel suo kit anche l'abilità Arctic Armor, ovvero un'armatura di ghiaccio che si irrobustisce stando fermi ma che non consuma una singola unità di mana. E a questo proposito gli sviluppatori hanno introdotto lo Spirit, una risorsa dedicata agli effetti che durano nel tempo, come le armature magiche, le aure o i servitori. Si inizierà con uno Spirit pari a 100, una quantità sufficiente per la maggior parte delle abilità, ma sarà possibile anche cambiarla tramite le mod degli oggetti e nell'albero delle abilità passive. Ma torniamo all'Incantatrice con una delle abilità che infliggono maggiori danni, ovvero la Cometa. Come molte skill del Monaco, anche la Cometa fa infatti arretrare leggermente il personaggio, rendendo questa abilità un ottimo contrattacco di fronte a grandi gruppi di nemici o boss aggressivi. E una volta esaurito il mana potremo inoltre fare affidamento su un nuovo tipo di attacchi infiniti e senza costo, quelli legati alle armi che lanciano magie. Ogni bastone possiede infatti un incantesimo incorporato gratuito che è possibile lanciare a piacimento. A margine della presentazione, gli sviluppatori hanno inoltre parlato di una serie di funzioni aggiuntive che verranno implementate nel titolo. La prima riguarda la possibilità di richiamare in qualsiasi momento al di fuori del combattimento i personaggi non giocanti che ci stanno guidando nella missione in corso, in modo tale da farci dare maggiore informazioni o aiutarci con gli obiettivi ed enigmi piuttosto che dover tornare in città. Come se non bastasse, sono stati introdotti dei nuovi oggetti consumabili chiamati Flame Core, che fanno da ricompensa ad alcuni degli oltre 100 boss unici che incontreremo nel corso della campagna. Questi consumabili rappresentano un più dieci permanente a una determinata statistica e sono stati pensati per premiare l'esplorazione. Il team inoltre si è soffermato sul processo di ottenimento delle gemme. Anziché offrire come ricompensa delle gemme specifiche, i nemici e i boss ce ne daranno alcune non tagliate. E a questo punto sarà sufficiente fare click con il tasto destro su di esse e scegliere l'abilità desiderata. La gemma verrà così consegnata dal boss già a livello dell'attività che staremo affrontando. L'ultima grande novità è invece dedicata alla possibilità di cambiare arma in combattimento, una funzione già presente nel primo capitolo, ma che nel sequel è stata completamente rielaborata. Prendendo ad esempio l'incantatrice, infatti, il gameplay che abbiamo visto mostrava come il personaggio fosse in grado di lanciare incantesimi di ghiaccio e di fulmini, proprio perché è possibile specializzare l'albero delle abilità delle singole armi. Il bastone utilizzato nella demo possedeva già una mod per il ghiaccio, fattore che lo rendeva perfetto per gli incantesimi congelanti. Con questo nuovo sistema, però, è sufficiente equipaggiare un altro bastone nel secondo set di armi, specializzarlo nelle abilità dei fulmini e poi deselezionare il set delle abilità di ghiaccio. Così facendo, il nostro personaggio userà un bastone per un set di abilità e un altro bastone per il secondo, massimizzando così la sua efficacia. Path of Exile 2 sarà un gioco indubbiamente ampio e longevo, capace di fare presa su una maggiore platea di appassionati grazie alle molteplici funzionalità e alle meccaniche che gli sviluppatori hanno limato, pur restando quell'esperienza complessa e stratificata che i fan del primo capitolo amano. Un sistema di classi completamente rinnovato, la personalizzazione delle build e un supporto attento faranno di questo sequel uno dei giochi da tenere d'occhio l'anno prossimo. Certo, ci sono ancora moltissime incognite sulle classi che non sono state mostrate, sul sistema di progressione e sulla gestione delle stagioni, ma a rassicurarci per ora c'è la passione del team di sviluppo, che è assolutamente determinato a offrire agli utenti l'esperienza action RPG definitiva. Voi cosa ne pensate delle novità di Path of Exile 2? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!